Buongiorno a tutti. 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 Razzolini in queste quattro partite ha segnato la rete, ovviamente il campanile ha di una squadra con quattro gol, viene da una squadra molto attrezzata, quindi sicuramente viene da retro per cercare anche di migliorarsi, l'esperienza è un po' di stagione, è un po' di migliora, può portare adesso in altre secondarie, si vede che è stato da un pallone, è stato davanti che mandora, e speriamo così, che si tratta di un po' di stagione. Sì, mancava l'attaccante nella gestione mia, questo anno arrivavamo sempre lì, ma noi restavamo a concludere l'azione, quest'anno per fortuna abbiamo acquistato questo flagrito, che sta dimostrando veramente di avere una grandissima potenzialità. La personalità della mentalità, di quanto ha esistito la partita, di quanto è successo, di quanto è successo, di quanto è successo, di quanto è successo, di quanto è successo? Arrivare a un pareggio con la Florencia servito in casa loro è stato per noi una grande gioia. Da adesso dobbiamo solo continuare con questa mentalità positiva e con questa mentalità evolucente. Sì, ma è sempre difficile ripartire l'arresto dell'arresto 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 dell'arresto, perché ha detto alla ripresa, quando gli venivano a giocare, ha detto che è inoltre la fida quando è successo, l'arresto della fida, invece, appunto, si può lavorare, perché in novembre sarà in campanile della San Agüero, due sfide che nella cazza, che potrebbero portare sui punti all'arresto, finta ultima, passata guerra, finta contro il Fida, portai qua dopo la cazza strana, dove la Florentia che doveva stare spaventando il canzionato a fare il secondo palito con il seno di Dio e andando a fare già i controlli di Dio, nella luterna che era la prima inquantifica e nel momento anche lei era una delle squadre più probabili alla salvezza, ha trovato la confitta che vanno a questo impatto e la riconferla. È una cosa che dovremmo speccare ancora di capire i libri delle squadre. e noi poi vediamo questo, questo fatto è la fisica e lo faccio. Ecco, sono già avuto questo ruolo fatto di Mella Moralco, che ha risposto di capire le cose altre fisiche, abbiamo risposto nell'ultimo turno, tra il mio ruolo dell'arresto, sul gruppo Periglia, lo faccio alla Fulminia e la Fulminia la Fulminia e la Fulminia da professore di Mella Mixer con il Ricordino che è in sca 1-1 e giustica ragazza di Puglia delle stagioni del Milerne nella Fulminia nella Fulminia che c'è un'altra fulminia che bonamballa Fulminia il genero di Fulminia e la Fulminia il nostro lavoro, il nostro lavoro è il nostro lavoro di tutto il tempo di sottolineare la speranza di essere cambiato e questo conferma anche che poi da tutti gli malattori fanno scampiato e quindi dovremmo sottolineare il tempo di sottolineare perché è già un tempo di sottolineare la sua vita. No no no, abbiamo fatto questa maggiore attività per la letta, per tutti i vari diversi che ci sono delle qualità delle caratteristiche che hanno fatto il tempo di sottolineare il Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.